All'ospedale di Lentini si continua a lavorare per fronteggiare l'emergenza covid-19 con accurati controlli dopo aver accertato quattro casi di positività al coronavirus di due medici e due infermieri. Oggi salgono a 11 i dipendenti dell'ospedale contagiati dalle covid-19 e il numero sempre si è destinato ad aumentare. La direzione sanitaria pertanto ha deciso di mantenere aperto solo il pronto soccorso con la clausola di effettuare solo ricoveri per pazienti con patologie che richiedono il trattamento indifferibile mentre tutta l'attività ambulatoriale resta sospesa. A quanto pare il numero dei contagiati si prevede in aumento considerato che ancora mancano i risultati di 20 tamponi che sono stati effettuati in queste ultime ore. Domani quindi ci potrebbe essere un'impennata sul numero dei positivi. A giudizio degli esperti solo tra 10-15 giorni si potrà avere un quadro più preciso e dettagliato della situazione. Sarà sottoposto a tamponi anche il personale ausiliario che opera all'interno del nosocomio lentinese per conto di un'impresa privata. La situazione comunque è sotto controllo per quanto riguarda i pazienti ricoverati in corsia prima dell'emergenza covid-19.